di Francavilla Dete e Domenico La Leona di Montegiorgio, la banda Domenico La Leona di Montegiorgio, il soprano Stefania Camaglioni, il tenore Fabio Macchini, dirige il concerto il maestro Gianluca Sartori. Grazie a tutti. La Leona di Montegiorgio è il 1936 ed è basata su 24 poemi, tra quelli trovati nei testi poetici mediovali omonimi, opera di Goliardi e Clerici Vagantes. Questa composizione appartiene al trittico teatrale Trionfi, che, composto in periodi diversi, comprende anche i Catulli Carmina e il Trionfo di Afrodite. Fu rappresentato la prima volta l'8 giugno 1937 a Francoforte sul meno, mentre la prima italiana si tenne il 10 ottobre 1942 al teatro alla Scala di Milano. Grazie. 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 Grazie.